Salve a tutti. A volte pensiamo di aver già visto tutto nella vita, di aver già letto tutto, di avere già i nostri libri preferiti. Invece a me è capitato, dopo tanti anni e dopo migliaia, decine di migliaia di letture, di trovare un libro che posso definire il mio preferito. E questo libro è Une vie di Maupassant, Una vita. Maupassant, scrittore dell'Ottocento, famoso anche per Bellamy, che abbiamo già recensito in questa rubrica, mi ha catturato, mi ha conquistato con questa storia. Perché? Perché è una storia molto ottocentesca, ma anche molto attuale, e perché inizia in un modo fantastico, parlando della bellezza estrema degli anni dell'adolescenza, quando ancora tutto è puro, tutto è incontaminato. Lui racconta la storia di Jean, una giovane della nobiltà francese, che esce dal collegio. Fino a quel momento è stata rinchiusa in un collegio di suore, quindi ha avuto una vita molto casta, molto pura, lontana dai mali del mondo. E viene, diciamo, liberata, si potrebbe dire, dal collegio. Esce e scopre la bellezza della vita. Sfido chiunque a non aver provato, a 15 anni, 16, 14 anni, quel senso di esaltazione che dà l'avere la vita completamente davanti. Essere in un momento in cui tutto è possibile, tutto potrebbe realizzarsi, i nostri sogni più fantasiosi potrebbero diventare concreti. È quella la felicità, il cammino verso la felicità. Jean è così, è una fanciulla molto semplice, una fanciulla educata nei principi di una buona famiglia aristocratica, che ha un'intelligenza media, diremmo, e è la tipica provinciale. Se si facesse un film oggi di una vita di Maupassant, probabilmente il personaggio sarebbe interpretato da una Sandrelli giovane, perché dà molto l'idea appunto della fanciulla dolce, provinciale, semplice. E mi piace come Maupassant a un certo punto la conduce dentro la vita, e le fa vivere una serie di esperienze che in parte la stupiranno, in parte la traumatizzeranno, ma che comunque sono le esperienze che fanno parte della vita. Avviso, spoilerò, farò spoiler, perché questo testo mi ha così piaciuto che sento il desiderio di raccontarlo, passo dopo passo. Allora, la giovane Jen deve essere data in sposa a qualcuno, perché allora si faceva così. Una giovane in fiore doveva trovare un marito, e lei viene affidata appunto a un giovanotto che si capisce interessato al patrimonio di questi aristocratici, ma che è anche un bel giovane, che la corteggia, si chiama Julien, e lei viene rapita, il suo primo amore, il suo primo innamoramento. E anche in questo è fantastico questo libro, perché descrive proprio il primo amore, i primi palpiti, quest'uomo che la sa circuire, la sa sedurre, la sa prendere, diciamo. E c'è anche tanta ironia in Maupassant nel descrivere le figure secondarie, la zia Zitella che si presenta, sembra quasi non voglia dare noia con la sua presenza, non voglia esistere, un personaggio guardato con molta compassione, pietà, ma anche con tanta ironia. C'è la madre di Jen, che è una signora grassa, che fa fatica a camminare, è Maman, viene chiamata Maman, fa la sua passeggiatina tutti i giorni in questa villa dove loro stanno, sperduta nella campagna francese. C'è il padre di Jen, che invece è la persona forte della famiglia, l'uomo di casa. I due si sposano, finiscono per sposarsi. E qui Jen inizia a capire che la vita non è quel sogno dei 15 anni, non è quella meraviglia della primavera che esplode, la vita è anche altro. I due novelli sposi fanno un viaggio in Corsica, un viaggio avventuroso, lei sperimenta l'amore sensuale, diciamo, ma il suo primo sperimentare è anche traumatico perché lei non sa niente, non sa niente del sesso, non ha il coraggio di chiedere ai genitori, la madre, mamma è una donna così molto pigra, un po' vigliacca, per cui non riesce neanche a parlare della figlia, di queste cose, glielo deve spiegare il padre. E il primo giorno Jen viene presa quasi con violenza dal suo marito perché altrimenti il marito non avrebbe altre strade per arrivare a Jen. E qui mi ha fatto pensare all'eterna storia della coppia. Allora in quel periodo i matrimoni erano più o meno combinati, in quel periodo l'uomo doveva quasi fare violenza sulla donna per possederla perché le donne erano appunto delle norme ingenue, non si parlava di sesso, era qualcosa quasi che non era consentita alla donna. Invece l'uomo ecco doveva imporsi. Oggi tutto è cambiato, oggi non esistono più i matrimoni combinati, oggi c'è libertà estrema, è quasi l'opposto, eppure ancora esistono violenze sulle donne, eppure ancora il maschio vuole rivendicare la propria superiorità, la propria autorità, e così che nascono gravissime violenze nei confronti delle donne. Quindi insomma questo mi ha fatto interrogare, queste scene passate mi hanno fatto interrogare sul presente. Andiamo avanti, tornati dalla Corsica, da questo viaggio meraviglioso in cui ancora Jeanne sta sognando il grande amore, ecco la realtà. Julien è un uomo che in realtà è un traditore. Prima tradisce la moglie con la cameriera, e addirittura dalla cameriera avrà un figlio, e addirittura non vorrà riconoscere questo figlio, vorrà cacciare la cameriera, ma è solo per l'indole buona della famiglia di Jeanne che questo figlio viene accettato, vengono dati dei soldi e una rendita a questa cameriera, e gli viene addirittura trovato un marito di copertura, diciamo comunque un marito che si occuperà di questa donna e del figlio illegittimo. E poi Jeanne deve vivere altre delusioni, perché il marito, non contento di averla tradita con la cameriera, di aver fatto un figlio, si unisce a una donna aristocratica sposata, sposatissima, dei dintorni. Le due coppie escono insieme, e intanto il marito di Jeanne vive una storia di grande amore, di grande passione con questa donna, storia che finirà malissimo, perché il marito di lei la scopre e farà fare ai due amanti una fine veramente brutale e tragica. In tutto questo Jeanne è come una foglia sbattuta dal vento, cioè non ha i mezzi per affrontare questa vita, che per lei era assolutamente imprevista. riesce ad avere un figlio dal marito, naturalmente, e questo figlio diventa la sua unica ragione di vita. Del resto lei non ha niente da fare, non ha un lavoro, vive in un posto sperduto. E anche questo mi ha fatto interrogare sul ruolo della donna oggi, che perlomeno è riuscita a conquistare il diritto di lavorare, il diritto di affermarsi come persona. Jeanne è una povera donna lasciata a se stessa che a un certo punto non può che fare del proprio figlio una ragione di vita. Quindi questo figlio cresce viziatissimo, cresce nella bambagia, tutto gli viene concesso e quando arriva ad essere maggiorenne diventa una spina nel fianco, perché se ne va, comincia a dilapidare soldi in donne di malaffare, in investimenti sbagliati, diventa una croce per questa madre che l'ha sempre adorato tantissimo. E a un certo punto Jeanne prova una crisi enorme, si direbbe noi va in esaurimento nervoso, non ce la fa, sembra non farcela. E chi è che arriva ad aiutarla? Arriva la vecchia cameriera che era stata anche sua amica all'epoca, che la soccorre, la raccoglie come una foglia caduta per terra, la cura, se ne cura. Ormai i genitori di Jeanne sono morti entrambi, quindi lei è rimasta sola, il marito è morto appunto in questa vicenda brutale che citavamo prima. E la donna e il figlio di lei aiuteranno Jeanne a rifarsi una vita, anche se ormai la sua aristocrazia è decaduta, quindi lei sarà aiutata dalla gente del popolo. Naturalmente Mopassant ci sta anche descrivendo la fine di un'era aristocratica e l'inizio del potere del popolo, l'inizio del potere della piccola borghesia, anzi della classe contadina operaia che si eleva pian piano a piccola borghesia, mentre gli aristocratici vedono il loro mondo sgretolarsi a causa dei cattivi investimenti, a causa dei figli che non seguono le regole dei padri. Ecco, l'ultima frase di questo libro è una frase che andrebbe scritta a caratteri d'oro nelle proprie camere e è la frase che dice la cameriera a Jeanne di cui si è fatta carico, gli dice signora la vita non è mai così brutta o non è mai così bella come uno la pensa. Quindi è un accettare la vita, è una storia che appunto parte dal sogno, dall'ideale, dal sogno di una vita come si vorrebbe a 15 anni, alla dura realtà di una vita che non è mai così, che ha sempre degli ostacoli, ostacoli che possono essere di natura sentimentale perché tuo marito ti tradisce, ostacoli che possono essere di natura economica perché le tue sostanze vengono dilapidate o non vengono impiegate bene, ostacoli che possono essere di natura affettiva perché i tuoi figli non seguono le tue orme, anzi si ribellano. Era così nell'epoca di Maupassant, sarà così sempre. Resta il ricordo caro di questa Jeanne che bene o male riesce a camminare in questa vita, anche tra le difficoltà, e resta una scrittura meravigliosa di uno scrittore morto presto, troppo presto, uno scrittore che aveva molto vissuto, morto di sifilide, uno scrittore che aveva molto molto capito gli esseri umani, veramente sapeva leggere nell'animo umano un libro che ho adorato.